prepariamo oggi la favata sarda una ricetta tradizionale e per realizzarla ci serviranno delle fave secche le metteremo il giorno prima a mollo nell'acqua tiepida con un pizzico di sale grosso per quanto riguarda le fave che a questo punto come vedete sono reidratate tenute così a bagno dal giorno prima andiamo a togliere la parte dell'ilo quindi la parte posteriore è quella in cui è attaccata al baccello vedete questo favorisce la cottura e facciamo così per ogni fava ecco le nostre fave tutte pronte e per quanto riguarda le verdure invece utilizzeremo queste in questo caso utilizziamo bietole e cicoria in più del finocchio ma in questo caso non finocchio selvatico ma finocchio coltivato per intenderci si tratta dei finocchi che usiamo in insalata ma solo della parte alta che solitamente viene buttata volendo dovresti usare quella il finocchio selvatico ma è più complicato da trovare e ritengo che questo sia anche più semplice per chi non si trovi in sardegna inoltre se gradite potete utilizzare anche del cavolo verza o del cavolo cappuccio e aggiungere a questo mix di verdure anche quelle perché queste non dimenticate si tratta di un piatto povero quindi si cercava di fare un unico piatto con tutto ciò che la natura offriva ai contadini dell'epoca per quanto riguarda la parte delle proteine utilizzeremo una zampa di maiale in questo caso scegliete se possibile una parte abbastanza alta dell'animale in questo modo ci sarà più polpa chiaramente da mangiare un filo d'olio abbastanza olio perché comunque questa cosa deve soffriggere prezzemolo aglio pomodoro secco e cipolla tutto tagliato grossolanamente e mettiamo subito a soffriggere in modo da cominciare a eliminare il sangue della carne iniziamo quindi la cottura della nostra carne a questo punto cominciamo ad aggiungere un po d'acqua perché la carne chiaramente comincia ad attaccarsi non tantissimo diciamo mezzo bicchiere d'acqua quando la carne arriva a circa un terzo della sua cottura andiamo ad aggiungere l'acqua in questo caso ne sto aggiungendo un litro e mezzo ma chiaramente dovete regolarvi sia con la quantità di carne che con la quantità di fave e la dimensione del vostro recipiente nel contenitore una volta aggiunta aggiunta l'acqua come vedete andiamo ad aggiungere le nostre fave mescoliamo per bene in modo che le fave siano coperte dal liquido quindi coperchiamo e portiamo ebollizione e in ultimo aggiungeremo le verdure quindi andremo ad ultimare la cottura chiaramente aggiusteremo poi di sale ora che la nostra acqua è in ebollizione lasciamo cuocere finché le fave sono circa a metà della loro cottura quindi ci vorranno una ventina di minuti circa dopodiché andremo ad aggiungere le nostre verdure e ultimeremo la cottura aggiustando in ultimo di sale aggiungiamo adesso le verdure considerate che le verdure fanno molto volume quindi eventualmente potreste pensare di spezzettarle in pezzi più piccoli oppure semplicemente aspettare che scendano tanto finiranno per occupare veramente poco spazio ecco le nostre verdure aggiunte qua potete vedere il finocchio non spaventatevi non spaventatevi perché occupa veramente tanto volume ma come sapete le verdure tendono a scendere in fretta quindi solo un po di pazienza ed ecco il risultato a cottura ultimata chiaramente questo va servito con una bella fetta di pane sardo tostata vi farò vedere l'impiattamento ed eccoci all'impiattamento una fetta di pane tostato e andiamo a servire la nostra favata iniziamo dalla verdura la carne e le fave buon appetito